Nel giorno in cui l'Italia registra il più alto numero di vittime dall'inizio della pandemia, quasi mille, l'Irpinia versa lacrime per la scomparsa del primo camice bianco a causa del covid. Lui che il virus lo aveva combattuto in corsia prima di ispirare in terapia intensiva. Il dottor Mario Maiocca, medico del reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati, se ne è andato all'età di 66 anni. Residente a Rocca Rainola, lavorava da tempo ad Avellino dover apprezzato sia per le indiscusse doti professionali che per umanità e signorilità. Fino all'ultimo ha continuato a curare i pazienti. Non è purtroppo l'unica vittima delle ultime 24 ore all'ospedale di Ariano Erpino, ispirata a un'anziana di Scampitella. Aveva 86 anni. L'onda lunga dei decessi continua mentre il contagio appare stabile. La soglia dei positivi in Campania scende al 9,2%. In lievissima flessione i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ma sono ancora una volta i decessi. Purtroppo a liberare posti letto altre 54 vittime registrate in Campania, 1818 e il triste aggiornamento da inizio pandemia. Per i contagi in Irpini il tasso di positività è stabile, poco sotto il 10%, altri 141 casi nelle ultime 24 ore. 23 a Montoro, 20 ad Avellino, capoluogo. La lotta al virus in attesa del vaccino è destinata a proseguire insieme ai lutti.